Sottorete Novo appuntamento settimanale con Sottorete, terminata la regular season con la vittoria interna con il volley Soverato, ora si apre il sipario sulla pool promozione. Di tutto questo parliamo con l'ospite di questa settimana, la prima ospite, la centrale Melissa Martinelli. Melissa, un passo indietro sull'ultima partita con Soverato, che partita è stata? Grazie mille. Allora, diciamo che Soverato è partito con il piede giusto, poi ha trovato durante la partita delle difficoltà, probabilmente anche un po' fisiche, diversi cali durante la parte centrale e finale della partita. Ed è normale perché sono tornate comunque da un periodo di covid, quindi può capitare e diciamo che noi abbiamo colto l'occasione proprio appunto di fare del nostro meglio e fare subito dei punti perché erano preziosi proprio per la classifica. A questo proposito ne avevamo parlato anche con coach Paniconi nel dopo partita. La situazione di Soverato, questo calo fisico dopo il secondo set, visto che c'è stata una situazione analoga a Macerata, questo dà ancora più la dimensione di quello che la CBF Balducci è riuscita a fare dal ritorno dal covid? Allora, sicuramente noi abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo cavalcato subito l'onda perché abbiamo visto che le nostre potenzialità possono portarci molto avanti e perché no? Infatti è stata un'ennesima conferma quella contro Soverato appunto di saper fare molto bene e di non mollare soprattutto anche perché ricordiamo che eravamo veramente basse in classifica quindi arrivare terze del nostro girone ci ha dato veramente un entusiasmo incredibile anche perché sono sette, otto partite e vittorie vinte quindi bene. Pool promozione, sono usciti i calendari, per quello che riguarda le squadre che incontreremo, quale conosci meglio? Magari ci sono anche giocatrici che hai già incontrato e quali sono quelle da tenere più d'occhio? Allora, bene o male della pool di promozione di tutte le squadre, bene o male conosco tutte le giocatrici a parte magari qualche ragazza giovane e con qualche ragazza ho giocato in diverse annate, allora probabilmente non ce n'è una in particolare che temo di più anzi magari a volte guardo alcune squadre e temo magari dei singoli che fanno veramente la differenza in una squadra però diciamo che l'unione fa la forza quindi diciamo che sono tutte delle ottime squadre probabilmente direi proprio Pinerolo e Roma secondo me possono darci proprio del filo da torcere non so le altre squadre come sono messe, lo seguite ben poco sono sincera quindi solamente risultati e statistiche Ricordiamo che il Vole Soverato ha perso per 3-1 in trasferta agli ultimi due recuperi di Regular Season contro CBF Balducci, Elvia Recina, Macerata e Cuore di Mamma, Cutrofiano ecco quindi la classifica definitiva del girone est della regola season di Serie A2 femminile Megabox Valle Foglia 36, Cuore di Mamma, Cutrofiano 33, CBF Balducci, Elvia Recina, Macerata 29, Vole Soverato e Omag San Giovanni Marignano 27 Olimpia Teodora Ravenna 25 punti, Itas Cittafiera Martignacco 21, CDA Talmasson 15 chiuderà la sorella Ramonda Ipag Montecchio a 3 punti Studio 7 Con il secondo allenatore Michele Carancini prima di analizzare la pool promozione andiamo a parlare del prossimo impegno il 3 marzo si gioca il quarto di finale di Coppa Italia ancora però c'è da sapere l'avversaria che sarà decisa dal recupero di domenica proprio tra Roma e Pinerolo Sì esatto, aspettiamo domenica per sapere con chi andremo a giocare sicuramente sarà una partita in trasferta o appunto come hai detto tu a Roma o a Mondovì sì sicuramente per noi è una grande soddisfazione essere arrivati a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia e quindi cercheremo di onorare al meglio questa competizione Saranno partite secche, tutto può succedere anche perché le squadre sono tutte di valore ma se dovessi scegliere proprio una squadra che vorresti evitare quale sarebbe? Ma probabilmente proprio Roma, anche se sicuramente sarà, anzi probabilmente sarà la squadra che andremo ad affrontare ma sì sicuramente Roma in questo momento è la squadra più attrezzata e più fastidiosa insomma ecco Pool promozione, ci si arriva dopo una cavalcata trionfale di otto vittorie consecutive Qual è lo spirito considerato che insomma questo era l'obiettivo prefissato per la stagione quindi la squadra è ritornata in lizza per quelle che erano le ambizioni iniziali? Sì esatto, innanzitutto abbiamo raggiunto l'obiettivo della pool promozione e adesso ovviamente cerchiamo di cavalcare l'onda tra virgolette e continuare la nostra striscia di vittorie positive Per quello che riguarda il calendario, la prima giornata è prevista per domenica 28 febbraio però in teoria si doveva giocare con Pinerolo che dovrà recuperare appunto contro Roma quindi si inizierà di fatto la domenica successiva Sì, inizieremo in casa con Marzala che sicuramente è un avversario da tenere diciamo sott'occhio perché comunque è una squadra abbastanza completa e fino ad oggi ha dimostrato di essere una squadra di valore